Il risultato è pazzesco Disegno Mauro Rossiello con i razzetti Parto facendo un bozzetto Fatto, ora sperimentiamo Proviamo Rossetto sul nasino Ok, la soluzione mi è un po' sfuggita di mano Illuminante sul nasino Ragazzi, ho completato il disegno Per vederlo correte nelle storie ai ai Ma vi giuro che è stupendo Basta spoiler